Ai supermercati Sigma e Spesa Mia dal 30 settembre al 19 ottobre il piacere di risparmiare Pasta Amato da 1 chilo, 64 centesimi Dash Liquido 25 lavaggi, 2,99 euro Coca-Cola da 2 litri, 1,39 euro Birra Peroni, 76 centesimi Caffè Kimbo da 250 grammi, 1,99 euro Olio Sigma di Girasole, 96 centesimi Fon Silver Air Thermo Z, 13,50 euro Vieni a visitare i supermercati Sigma e Spesa Mia dal 30 settembre al 19 ottobre il piacere di risparmiare Ti aspettiamo in via San Domenico a Marina di Camerota